Quizzi 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 Grazie a tutti. Alla prossima. carino ad mirror time a dire come un casino mario est calma la bellissima faranta faranta isli cutina partima nazzle mayroca numero non so i questa attrazione sapo non que is basse a escamare una vecchia insetti nous sa tourta allrecchi never pelottino300 non aromma vale un malle di partena altri dappi materno umacati mu batima di sarkozi i sottotitoli i sottotitoli i voti i sottotitoli i 95% i sottotitoli i sottotitoli of sottotitoli i sottotitoli i Non, non, non. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e come andate canna vina l'arca ma ta fikri a new musica ma la mia vita raka hindo dependenza ma ito canna fitucana per katokana si manzari si manzari abu kwe chukwale si ma pukwishu olu anii lalina mazava juri anii anii harezani na amcoes ma nana yonan manzari perkele a perkele dilifu non la batte che la carina rosa e sondra la mia città 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 la mia tante scolica comeza you shabbat benazone rio fat come la tv no i face la bucca e tu sei hey mandato e che sono basato a bettiki to aska mitmanati tose a regalana faccia malabocca cuore fahazone atu bocats come futi ero i partiti a tutti i partiti sono un paese un paese sono i partiti i partiti a tutti i partiti e c'è il顯na kibale i havo Departamenti quanti fondi e non spero iniziare ai justi ovvero quindi mi racconti io non sono getto iniziare e ci credere davvero che ha fatto il momento non si sentire perchè è tutto il metto nel departamento 답no non si può confermo iniziare apply prima un collettino come faremo che raccoglie vingli da palami departe ma mamma un tico hiana alo si ma ficina attica le conseil general che si chiama la vita che si chiama che si chiama la ricca la ricca della la ricca ma si rara ma barbani ha ma barbani ha non di partito ma una 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 che la prima volta, il mio amore è stato irrisciuto. Perché? Il mio amore è stato intenzione. È stato un po' che ha fatto il nostro paquete, ma il mio amore è stato indietro, ma il mio amore la vita è stato un po' che è stata un po' che è stato un po' di amore. la cica il fa number is faranto is you will you know that's come by zuri dad ticca mamma ticca dat la cica babacica no petka nabelti letti buco faranta ti no and have been pet can you let me and they call us come basket per camera batca e2 no and not sick nani a babba a mamma kemi had a zanken Anzi e iovo te farò un passaggio trucco Nessuno acc frightened Cosa voi farò un passaggio Un Non, 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 non. quando io sono dipartimenti che magari per il nostro progresso guardare dal altro dove il nostro progresso e come spedio è la nostra sabbatcia quando possano non basta se ciò che si è il nostro progresso così ma il nostro progresso non non Sì. che fa che sa bene ha bisogno non mi stai a me visto che stai in a rio a fico sia la rio mamma musica te remember man bad come the maniera all about the localization ralto la barra lino and the people came a me non non grazie C'è questo? No C'è un po' che mi chiede, mi chiede Karine C'è una memoria di 20 anni di cui si era un bambino di un bambino C'è questo? C'è un bambino di una parte di un bambino di un bambino che era un bambino di una ricerca non non ma si ma 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 che non voto Journal Fado Votre Non voto Votare 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 No, 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 no. Ha detto che, voi comunque vengono che protattate alle culturali. No, 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 ha detto che facciate a vedere, non. Ha detto che, mi stiamo nel fare voi davanti la mia amica, il il ilitistico, il 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 departe è inilo. Ha, ha, ha! Come, mi stiamo nel pensare che la mia amica è venuta del tutto. In cui lei ha detto che non lascia il il departe è i conto. Non è vero, non è vero, non è vero. Mauri uil정을 fare alla fine di Ferenza. Si le xie vanno stari a fare una morte, a fare una morte con voi. Mi sembra che vissero? Mi sembra che vissero. Ma allora, adesso sono stari a fare una morte, il questo è lì. Seppa, il tutto il campo maurie non veniva la veniva dicciana bordo la chatte ma stavola l'amore cori messi la bandina chanini mandala da meriti mara sempre vu le nome di più vuoi per venire a farlo farata la rio cari tourno basse le chucrano lille departamenti non voulo bastimenti la tara va alibani L'abbia è iniziata, che viene nella teoria e la teoria. Inizia la teoria, perché non sono il nostro carico, perché non sono tutte le parole. Perché non c'è la teoria, non c'è la teoria. Perché la teoria è la teoria, non è la frase che vende la cantina. Perché quando la teoria, la teoria, la teoria o teoria, non meglio v questi non 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 No l'articolo ma lì a scelta la belle mafka le malo è tutta la scola marco ma venti l'armi chacolano pari bassi messi ma balle dica che come la lume pote d'affare si calbe alla 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 fichia noi in petka la union non ho non vuoi no ma non per te come cura simbra la basa e meri sa finesse zamba pera si è stato un po' di più, si è stato un po' di un pari, si è stato un po' di più, ma di più, se ci sono due in un po' di più, a di più, i studenti, si è stato un po' di più, non è una cosa che vuole, ma io mi voglio sapere che vuole un po' di più, ma io voglio sapere che il suo lavoro, come per il suo lavoro, che si avevo un po' più complessi aочему ne ho avuto una volta ma quando quando si è avuto il corso del avuto di un po' più, che vive il corso del canto e ho pensato a cui organiza la loro che mi ha avuto un po' più grande questo attimo quando si è avuto un po' più che ci inseguono che hanno avuto un po' più assoluta nel corso del canto che ha fatto unalastità perché non ha avuto un po' più Il era proprio una persona che mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva. Come mi piaceva, non mi piaceva, non? Come mi piaceva, non mi piaceva, perché... In questo caso tutte i ragazzi che non ci sono stati curioso, sono stati che non si sono stati lì, e poi mi ha detto che poteva, e poi ci sono stati un po' di famiglia, la sono venuti qui insegnava le bambini, ho desure liberi, bloci fa, motri ma dinchi, ma è si è un tato di maniera, ma faiu la causa. Non non mi dica, è che va bene. Non ci sono i fatti a costruire la macchinazione. Non ci sono i fatti a costruire la macchinazione, ma fatti a costruire la macchinazione. Non, non ci sono i fatti a costruire la macchinazione. Non, non, non. I ragazzi, sono venuta fisicamente per la mia previsione No, non No La mia previsione... Io c'era un po' azzoldare un po' azzald E' inserci il nuovo lavoro di politica Come c'è tempo di politica Perché uno sta spiegando E' un po' chezzo di nazi Io sto facendo per la mia previsione Non Io sto facendo per la mia previsione Io sto facendo per la mia previsione Io sto facendo per la mia previsione La mia previsione è a ascoltata Ma signa da non capire Per cui invece io non sono mai Io riesco a facciò no is missing a collega how and i know notica no for and come over here to zambo nem cota job at school no have a batco have the perez danny cosi departementale and that's co hita hey ok for hamna ambazinati parmi te presiden miss band in the shine don't have it a senataire now follow now work on the C'estli tutti, non è il suo ruolo, non siamo, cos'è? Come ti so che ci si è entro. C'est qui l'imam? C'è lui, la mia famiglia, non è la mia famiglia? Noi, non è la mia famiglia, non è la mia famiglia, non è la mia famiglia. Noi, ci sono gli altri, ci sono una famiglia. Ci sono dicreditazioni. C'è un amico è un amico, e lo ami abbia il moito, del mcpniki messi lino bassi accosti departamentale rio a scaricato presidenza il chef tica fisica metta zina ma tasca mcpn kati casque chiam si porca ma scatola marcarine cosina terrasi la scatola del marco da la casa la casa da la casa da la casa deve essere davvero della vostra Presidente ha fatto la vostra Presidente o che deve essere della vostra Presidente dove si indica a votare l'Azika sono quelle le loro stagione e è nulla ma cosa vuole? non 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 sì non 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 Quando ogni settimana sono stati aiutarmi uno come una Baratina in Asabli, un'Asabli nel mondo, non lo haierto che ci sono, perché hai detto che i». Hai detto che aveva avuto questo personale, poi avevo avuto il colore di Bunda, ma ovviamente come i Fuggiari, ma non può fare i voti del futuro, che gli altri è esageri, ma non sapevo il bambino, ma non sapevo il caso, ma non sapevo il caso, ma non sapevo il caso, ma non sapevo il caso. a scambio mohanam cadetta un bianco si fa scovetti a bocci come te bocuni è la Doveveva il ragazzo del tuo ragazzo di Qadona? Ho mirro che io ti accophavo il pool? No, ma ora 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 ti accompano il suo ragazzo. Se non quando io ti accorcio a occhi a pecipare ce quale, L'accia è una cosa che mi accorre, significa che immaginiamo, che mi accorre la prima volta, No, inizia la mia vita esistante. Ha! Sessi, è vero che ti accorre che vieni a fare questo. la chi la tinta fa via un presidente come ne campagne tempo a attacchi 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 non se città fuori unlaughs non ci non 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 puoi un po' un canto e che tuoi c'è tutto il caone a tutti i figli a tuoi eh eh che si chiama un po' perché se che tu mi fai come io mangiare come io mangiare come io mangiare hai su te il te fa come il te fa è Non, 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 non. con uno che mi ha avuto ad esempio Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Non, non, non. non Anche ma la la cosa ci viene da parte dell'Africa e mi spazia che in questo modo Se volete a come abbiamo questo capito quando c'è come si un po' in Longune Bona? Non Se volete a come vendesse a come la fosse della con la squadra e non Se volete a come anche la squadra e non Se volete a come la squadra a come la squadra havo di quelle strada le fargine ma fredda, e ai a dimentic Petteri Ciao Whoo non non suonare la scuola qu'ilice questo è le primo non è nei non Sì, che se faccio, se faccio a parlare la costruzione del mettere? Sì, ma gente ha avuto il mettere la assietà, non ho un incendio. Se c'è qualcosa di un incendio non, c'è qualcosa che ci ha detto il me aveva già lungo. L'escriptore tutto si non, il vengono di un incendio. C'è un incendio no? è una cosa che aveva fatto perché non lo so se non lo so se non sono non lo so se non lo so non lo so se non lo so la presidenza non c'è la scuola non c'è la scuola ma cimara non c'è la scuola la scuola la scuola c'è la casa ma la casa a un'espozono il bimbo che si chiama che si chiama che sono lì ma si attica attica torta l'anati un'imagine 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 un nazi ma lente No. Non 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 francesca buona farà vettura scelta no a scattato da marcania manato latino barbacca marcanio togan schietto sul toga su cartero in segala marco sasav l'argomento pino zama lo scuola io non a scritto nannetti maio trottica venti vazarai mandato vengi otsika maio di partima non della ripubli francese francese rino il ya un tavolo quittiche of kaffo masca i fattima attraverso maio della repubblica di congo la famiglia la scala la famiglia scala la comunica la famiglia la famiglia la famiglia franpita l'ichino la c s'ilogue la mamma maori fashashi mandi letta mauritura katika manda carattere attenta ma catimia non Qualla cosa è la prima cosa che vi presenta? Non. Non c'è una question di essere, perché non c'è un bambino? Non. Non. Non c'è qualche altro problema? Si, hai visto il momento che non si lascia dal vostro bambino con il bambino con il suo giro. Non. Non. Non, faccia đến l'ambiente, shoulda chiedere l'ambiente. Qua perché hai visto a te di essere? E voilà... ma cittadina per l'economia di sida bambini l'economia vettura l'economia che mi ha detto 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 rai a scattivitato a scattivitato a scattivitato a scattivitato a scattivitato risultato richardia che ti manacola succo atteniani mi scuofa navi mi chiamo mi chiamo i fatti mi chiamo i chiamo mi chiamo nel e mi chiamo sono io sono e Sì. se non si cure la mia mera sicolo che crede ma consiglieri a pagare contarmati carica come si male non che è attaccato me ha dompite casva che battu non Non, 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 non. non vedi anche a votare i vostri amici e ti senti ascizzi allora di ventare si è tutto quando so i posti per i soldi non è un sacco il niente del termine è il niente il dimentica il suo stress la mia non ti rendi più non ti rendi più così No, 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 no. da fuera, non c'è un tema. E' ma questo, all'imujerà gli aiuti a me s'entr dibat Yorsi. Si è una cosa a tutti noi perché è evidente che le persone fa gira, ma quando sono ormai? Si è andata a casa. E quello che è, che hanno incontrato a casa. Conquistano un poccato, non so. E' un poccato. E' un poccato, ne è un poccato. Anche io ho vedi schaura a una casa. Quando i ci faccio, le vedi che la vita al primo, le vedi che i l'vicinati, non ci faccio. Non è come, che lo faccio ai fatto, per il mio amore si accresa. Non è? Non è come la vita che si accadere il suo lavoro più in quanto è la vita e gli animieri. ma che che mi ritmi fatti me avversa la lì la lì lì In alcuni, io rispondendo anche un po' della storia Qu'è ilqua, spegnato che ha una traduce In questo caso la faccia è la storia Ma noi lo dobbiamoствare In questo caso c'è l'unica In questo caso io non penso che Qu'è il pomo, immaginato che stiamo In questo caso lo soffrarei Qu'è il miglioro della storia Non, 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 non. a partito che non 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 con un colloquino ma la 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 come Non, 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 non. Non, 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 non. non C'è un'a sec quadratura dove accaduto la giuria dopo il nostro per si è in apertura. C'è un po' di 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 una tempi e Penning non Non, non, non. La mia famiglia è iniziata a parlare di un'euro, ma non è un'espoirsi, ma non è un'espoirsi. La mia famiglia è stata a parlare di Zuber e Muhammad, quando mi ha detto un anno, non c'è anche un po' che ha detto, cosa che pensano è che la mia famiglia di Kakarini, non c'è un po' che ciò che ha detto. Grazie a tutti. ma via carri carattara ma non si 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.